La 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 Buongiorno benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sul traffico, traffico intenso sulle nostre strade per i primi rientri dalle località di villeggiatura con tempi di percorrenza elevati, infatti sulla 14 sono di 1 ora e 50 per percorrere il tratto tra Riccione e Imola in direzione Bologna. Peraltro gli spostamenti sono anche condizionati dalla pioggia sempre sulla 14 tra Senigalli e Ancona ma anche sulla 24 tra Carsoli e Colle d'Ara e anche sulla 25 Torano Pescara. Come di consueto monitoriamo le immagini che ci giungono in diretta dall'altezza della 1 l'autosole al chilometro 156 come vedete flussi veicolari vivaci in entrambe le correggiate, analogo a situazione la ritroviamo a Castel San Pietro. Ma inizio nelle comunicarvi che si registrano code per 8 chilometri sulla 22 Autostrada del Brennero motivate da un incidente verificatosi tra Affi, Lago di Garda Sud e Alavio in direzione Brennero. Sempre sulla 22 abbiamo code per 4 chilometri tra Carpi e Bivio della 1 in direzione Modena. Sulla 12 le code per 6 chilometri sono motivate da cantine di lavoro tra Rapallo e Genova Nervi in direzione del capoluogo Ligure. Raggiungiamo l'autosole sulla Roma-Napoli perché si è verificato un incidente che sta generando code al momento sono di 3 chilometri tra San Vittore e Cassino in direzione Roma. E infine vi segnalo in Sicilia la chiusura in entrambe le direzioni dello svincolo di Bronte esattamente sulla strada statale 284 occidentale etnea e quindi criticità proprio per questa chiusura. Queste al momento le notizie di maggior rilievo grazie per l'attenzione ed Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità guidate con prudenza e fate buon viaggio. Arrivederci.